Scattano le manette per 11 persone tutte italiane, ritenute responsabili di rapina, ricettazione e riciclaggio nelle province di Milano, Lodi e Monza. Gli obiettivi della banda erano i tir trasportatori di merce pregiata. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato di Torino sono cominciate giusto un anno fa, a febbraio 2015, quando tentarono di rapinare un veicolo in transito sull'A4. Gli arrestati utilizzavano sempre lo stesso modus operandi. Individuato il veicolo da rapinare, aspettavano che ralentasse la corsa a causa di un trattore stradale che gli si poneva davanti. Una volta impossessatisi del mezzo, sganciavano il semirimorchio contenente la merce e lo agganciavano al trattore. Le rapine interessavano diversi settori, abbigliamento, profumi, occhiali, telefonia, per un valore commerciale di oltre 15 milioni di euro. Grazie. 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 Grazie.